Sono Gabriele Sprocati, Presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Triathlon. Quando, alla fine dello scorso anno, il Comitato Organizzatore Europea Master Games ha presentato la possibilità di organizzare la gara di Duatron e di Triathlon, abbiamo accettato immediatamente questa proposta. L'idea è stata quella di organizzare la gara di Triathlon nello specchio d'acqua del Lago Grande di Avigliana, location ideale, secondo noi, poiché arriveranno dall'Europa ma anche dai paesi estero-europei, atleti ben abituati a gareggiare nel Triathlon in acque libere. E poi, considerando anche il periodo dell'anno di inizio agosto, era logico scegliere una location come quella del Lago di Avigliana. Già tutti gli anni, la prima domenica del mese di agosto, si organizza ad Avigliana una bellissima gara di Triathlon sulla distanza olimpica, questa volta la si trasforma in distanza sprint e noi confidiamo che tutti quelli che verranno ad Avigliana da tutti i paesi mondiali possano apprezzare la collocazione della gara in questo magnifico scenario delle prealpi.